Un trionfo mondiale nel segno di una marchigiana. Alla World Cup di ginnastica ritmica disputata la vitrifrigorena di Pesaro, è stata infatti Sofia Raffaeli, diciottene di Chiaravalle, a prendersi la scena del palazzetto, vincendo loro nella categoria All Around. Una doppietta tutta italiana, grazie al secondo posto ottenuto da Milena Baldassarri, che ha chiuso la gara davanti alla bulgara Nicolova. Medaglia d'oro al collo anche per le farfalle, che con una perfetta prova mista, tre palle e due nastri, hanno trionfato per sei lunghezze sulla Bulgaria, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono molto orgogliosa di questo risultato e devo ringraziare comunque tutta l'Italia, le mie allenatrici, la società ginnastica Fabriano, le Fiamme Oro e la federazione che mi ha dato questa opportunità magnifica. Abbiamo lavorato molto in quest'ultimo periodo per cercare di migliorare sempre di più tutti e quattro gli esercizi e diciamo che ci siamo riusciti e c'è ancora molto lavoro da fare, però è un buon inizio. Dopo il risultato dell'anno scorso alle Olimpiadi, riscendere con questo nuovo codice che insomma da gennaio in vigore è stato un crescendo in questi mesi fino ad arrivare ad oggi, quindi sono molto contenta del lavoro che sto facendo e poi in vista anche per gli europei che tra una settimana. La location della Vitri Frigo Arena si è confermata anche per quest'anno un contenitore ideale per competizioni di questo calibro. Ormai è diventato un appuntamento fisso e che è accettato in maniera entusiasta da tutto il mondo. Questa è sempre quella più partecipata, siamo molto soddisfatti, specialmente quest'anno ovviamente dove i nostri colori stanno dando il massimo, in questo momento siamo primi sia nell'individuale che nella squadra, quindi meglio di così, oltretutto ogni anno ci miglioriamo, Paola Porfiri e i collaboratori stanno facendo un lavoro eccezionale, quindi bene su tutta la linea. La Coppa del Mondo disputata a Pesaro dal 3 al 5 giugno ha visto 32 nazioni partecipanti, 150 atlete e 300 componenti delle delegazioni, chiudendo una tredicesima edizione che dà la rivederci alle prossime World Cup già assegnate a Pesaro. Noi abbiamo avuto la Coppa fino al 2024, per il quadriennio dal 2020 al 2024, ma purtroppo una è saltata e quindi fino al 2024 dovremo andare avanti.